Musica Buon abitacolo, dati allarmanti sullo spopolamento, l'analisi del sindaco Giancarlo Guercio. Ecomafie, l'avvocato Michele Di Jesu entra in commissione bicamerale d'inchiesta al Via, il confronto con i parlamentari. Padula, questa mattina la presentazione del patto di gemellaggio tra le certose di San Lorenzo e Calci. Ascensore per anziani e disabili in visita al cimitero, approvato il progetto a stanza. Una vita lunga un secolo, Monte San Giacomo festeggia i cento anni di Angelo Caporrino. Buonasera e bentrovati. Il sindaco di Buon abitacolo Giancarlo Guercio interviene a mezzo social sul fenomeno dello spopolamento nel Vallo di Diano. Tanti i punti di riflessione offerti. Partiamo così. Il Vallo di Diano si sta spopolando, una triste realtà che non accenna ad attenuarsi, come testimoniato dai dati statistici degli ultimi anni, che evidenziano una netta sproporzione tra nascita e morti nel comprensorio. Tanti i motivi della crisi ormai noti, che vanno dalla stasi della politica alla poca intraprendenza dei giovani. Sul tema è intervenuto giorni fa, mezzo social network, il sindaco di Buon abitacolo Giancarlo Guercio, che parte dai numeri registrati nella propria comunità per arrivare ad un'analisi globale del fenomeno. Leggo i dati piuttosto sconfortanti di nascita e morti negli ultimi anni, apre il post pubblicato dal sindaco Guercio. Credo siamo a un punto di non ritorno, il trend è destinato a peggiorare e il destino dei nostri piccoli centri è a dir poco drammatico. La politica, la classe dirigente di questo territorio, è chiamata a svolgere un ruolo importante. Oggi non si può pensare più al particolare, al proprio orto. Evidente e necessaria una serie visione comune, collettiva, comprensoriale ma incisiva. Le città, rimarca Guercio, sono sempre più attrattive e offrono servizi anche a costi esorbitanti. Ma la modernità è un fatto ineluttabile e noi non possiamo rimanere indietro. L'unione dei comuni è un fatto da prendere in seria considerazione. Abbiamo ricchezze importanti, conclude il sindaco Guercio, ma dobbiamo anche avere il coraggio di metterle in un contesto unico, altrimenti saremo tagliati fuori. Sperando che i colleghi amministratori, gli stakeholders e i protagonisti di questo territorio sappiano interpretare le urgenze e siano capaci di attuare le azioni necessarie a contrasto dei disservizi e del depauperamento umano. Lo scorso dicembre, poco prima delle festività natalizie, è arrivata la notizia per la nomina per l'Avvocato Michele Di Esu, quale consulente legale della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso legato. È stato un incarico molto prestigioso, ma al tempo stesso impegnativo. Il ruolo dei tecnici come l'Avvocato Di Esu è di grande valore. Va inoltre considerato che la sua presenza potrebbe essere importante anche per il nostro territorio. Abbiamo intervistato l'Avvocato Michele Di Esu, che spiega il ruolo della Commissione e il suo contributo ai lavori. Ascoltiamolo. Certamente è un incarico di responsabilità, che noi vivremo con responsabilità e con coscienza soprattutto. Non me lo aspettavo, perché far parte di una Commissione così importante, soprattutto in una zona come questa, che necessita poi di particolari attenzioni sotto il profilo ambientale, mi onora dell'impegno che dovrò affrontare. Stiamo cercando di individuare i temi che andremo poi a sviluppare nel nostro ambiente, nelle nostre zone e poi li porteremo eventualmente all'attenzione della Commissione. La Commissione è già attiva da tempo. In realtà è una Commissione bicamerale di inchiesta e quindi ha, come dire, nel suo seno parlamentari di maggioranza e opposizione, che hanno tutti un unico obiettivo, la salvaguardia del territorio e del nostro ambiente, di natura nazionale. Quindi si cercherà a questo punto di individuare le tematiche che riguardano le regioni. Magari questo potrebbe riguardare proprio il consulente specifico da questo punto di vista. E quindi il mio incarico, regioni contigue alla nostra, per esempio, come la Basilicata o come la Calabria. Quindi entriamo subito nel vivo del tema. A giorni partiremo con le audizioni perché questa è una modalità con la quale la Commissione lavora attraverso le audizioni di personalità per capire se la norma di natura nazionale viene rispettata. In ultimo le chiedo sempre per quanto riguarda questa Commissione. Lei ha parlato anche della presenza di parlamentari allo suo interno e quindi tecnici come lei. Insomma, in questo modo, cercando di unirsi il potere esecutivo con il tecnico, quindi con il giuridico, si potrebbe cercare anche di potenziare ulteriormente questa Commissione in quelli che possono essere i suoi compiti? Il senso è proprio questo, cioè nel senso che il tecnico dovrebbe interfacciarsi col parlamentare, il quale a sua volta riferirà in Parlamento di eventuali problemi che potrebbero esserci nelle nostre zone, per fare un esempio, sino in ambito nazionale. Certo è, la Commissione nasce in ausilio all'autorità giudiziaria e in alcuni casi addirittura può avvocare a sé eventuali indagini se siamo in presenza di grossi fenomeni di criminalità organizzata. Sì, lo possiamo definire un potenziamento, ma io parlerei più di ausilio, di ausilio tecnico, perché se è necessario a questo punto il tecnico si interfaccia in Parlamento, però sarà presente alle audizioni il tecnico, se volesse, e quindi automaticamente lo stesso parlamentare poi potrà interfacciarsi con le istituzioni. Quale sarà il sospicio per questo incarico? Mi auguro di fare cose buone. Quello che a me interessa è cercare di fare qualcosa di buono per questo territorio e cercare magari di lasciare un segno ai posteri, perché abbiamo bisogno, come ho già detto in passato, di consegnare alle future generazioni un territorio più salvaguardato. Autore di diverse rapine in pochi giorni tutte consumatesi ad Eboli, un 27enne del posto è stato assicurato alla giustizia dai militari della compagnia locale. Un 27enne bolitano è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale perché autore di diverse rapine. L'uomo, già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio, era da tempo sottoposto all'obbligo di dimora. L'attività investigativa, portata avanti dagli uomini del capitano Luca Geminale, ha consentito di accertare che il ragazzo si è reso responsabile, negli ultimi 15 giorni, di una serie di aggressioni e rapine e danni prevalentemente di donne anziane. Tutto è partito il 2 gennaio scorso, quando dopo aver minacciato con un coltello alla gola due bolitani, gli ha sottratto 200 euro. Il giorno seguente invece ha colpito un'anziana e dopo averla strattonata e fatta cadere a terra, le ha rubato l'intera pensione che la donna aveva ritirato poco prima e il telefono cellulare. Il 4 gennaio ha intercettato una coppia del posto, l'ha minacciata con un coltello e si è appropriato dello zaino della donna contenente valori, effetti personali e telefonino. L'8 gennaio, dopo aver raggiunto l'auto condotta da una donna, gli è entrato con violenza e le ha rubato la borsa. L'uomo, arrestato dai militari della sezione radiomobile di Eboli, si trova ora nella casa circondariale di Salerno. Questa mattina è stato ufficializzato il protocollo d'intesa che vede insieme i territori legati alla Certosa di Calci e quelli di Valdianese e Cilentano legati alla Certosa di San Lorenzo per una valorizzazione dei beni, delle tradizioni culturali e denogastronomiche delle due realtà. L'incontro, moderato dal giornalista Pietro Cusati, si è aperto con la musica e i canti del coro polifonico Polimnia di Padula diretto da Anna Maria Torresi per poi passare alla presentazione del progetto a cui hanno lavorato con grande impegno i membri dell'Associazione Amici del Vallo di Diano e Cilento in Toscana. La sottoscrizione del patto di gemellaggio tra le Certosi di Calci in Toscana e San Lorenzo a Padula, fortemente voluta dall'Associazione Amici del Vallo di Diano e del Cilento in Toscana, è stata occasione, grazie anche alla presenza di illustri relatori nonché esponenti degli enti per la valorizzazione dei beni culturali, per mettere in evidenza l'importanza che i monumenti certosini possono avere nello sviluppo turistico-culturale di un territorio. Monumenti che oggi vengono riscoperti in tutto il loro valore artistico-culturale e soprattutto storico, capaci di raccontare storie e verità del passato fin qui nascoste. La valorizzazione e la promozione turistica delle Certosi in Italia, finora, ha rivestito un ruolo di secondo piano. Negli ultimi anni si sta invece già registrando un'inversione di tendenza anche da parte degli enti preposti come i poli museali regionali che stanno investendo proprio nella promozione dei monumenti certosini quali importanti contenitori che racchiudono secoli e secoli di storia fin qui poco raccontata. Il valore delle Certose è stato ben compreso dall'Associazione Amici del Vallo di Diano e del Cilento in Toscana che partendo da un'area che ospita la più grande Certosa d'Italia e la seconda più grande d'Europa per arrivare in un'area come la provincia di Pisa e precisamente Calci che ospita la Certosa di Val Graziosa, nota anche come Certosa di Pisa, hanno voluto rafforzare il legame con la loro terra natia per esaltare l'importanza e la bellezza della terra che le ha accolti proprio attraverso il monumento simbolo per entrambi i territori, ossia le Certose come sottolineato dal presidente dell'Associazione Gesualdo Russo. Le nostre origini non si possono perdere, noi ricordiamo da dove siamo partiti e da dove siamo venuti, il ricordo ce lo portiamo dentro, è incrostato nel nostro io e non lo perderemo. Oggi sicuramente è una giornata importante ma ad oggi ci siamo arrivati dopo un anno di lavoro e costituisce solamente una tappa perché da oggi entrerà in carica un comitato di gestione del gemellaggio che metterà in piedi una serie di iniziative da portare avanti per ottenere il massimo effetto da questo patto che oggi viene stipulato formalmente ma che è un patto che avrà il compito di avvicinare due comunità geograficamente lontane ma che hanno lo stesso intendimento, quello di valorizzare e promuovere il proprio territorio. E rimaniamo sul patto di gemellaggio tenutosi questa mattina a Padula che ha potuto contare sul sostegno di tanti enti che hanno collaborato con l'associazione promotrice capace di contribuire con il suo impegno ad una crescita e ad uno scambio culturale tra le due realtà coinvolte il supporto all'iniziativa è stato confermato anche dalla presenza oltre che dei due sindaci di Padula, Paolo Imparato e di Calci, Massimiliano Ghimenti dei direttori del Polo Museale della Campania, Anna Imponente del Polo Museale della Toscana, Stefano Cascio a concludere l'assessore regionale Corrado Matera. Vediamo Da tempo abbiamo puntato sulla valorizzazione della certosa di Padula che a mio avviso rappresenta uno degli attrattori più importanti della Campania il brand delle tre certose che mette in rete Padula, Capri e Napoli e si sta lavorando anche su un progetto rilevante che è l'itinerario delle certose europee e allora questa iniziativa, questo gemellaggio tra la Toscana e la Campania io ritengo che sia particolarmente importante Tengo presente che il turismo culturale è in grande crescita noi ci troviamo in un territorio dove sono diversi gli attrattori culturali in un'area più vasta che potrebbe essere quella dell'area parco ma si è nelle condizioni anche di diversificare l'offerta turistica allora iniziare a lavorare su un itinerario più importante che può essere quello delle certose europee partendo da Padula che è il riferimento di un brand importante quello delle tre certose e considerando anche il gemellaggio che sarà oggi firmato è la strada giusta per andare avanti Questa sperimentazione l'abbiamo già cominciata con grande successo qui in Campania legando le altre due certose quella di Napoli e quella di Capri quindi bisogna essere concreti pensare a dei progetti che possano magari da qui partire ed essere condivisi con calci ma ci auguriamo anche con altre certose che ci sono in tutta Europa è una bella giornata di sole abbiamo avuto un tempo terribile e se gli ospici anche meteorologici sono con noi diciamo che il sole ci accompagna il sole è il simbolo anche certosino La certosa di calci come il resto qui a Padula presenta una storia secolare iniziata nel 1366 con la sua fondazione che si percorre poi attraverso i secoli in particolare i 600 e i 700 che danno l'aspetto attuale, fastoso legato al barocco e al rococò quindi è un'esperienza di visita molto bella che si porta avanti anche sino al contemporaneo perché ospitiamo le opere di Igor Mitorai un artista molto noto che ha voluto lasciare alla sua morte queste opere al Ministero e il Ministero ha deciso di ospitarle proprio nella certosa di calci con uno spirito di collegamento con la contemporaneità che anche qui a Padula è molto forte con l'esperienza degli anni 2000 della presenza di arte contemporanea La certosa di calci è quindi aperta alle iniziative che questo gemellaggio insieme al Comune di Calci al Comune di Padula e alla gestione appunto diretta dei due musei potrà fare in futuro cercando di organizzare iniziative che appunto colleghino le due certose e le colleghino a loro volta al sistema più ampio delle certose italiane e internazionali Abbiamo seminato intanto il primo chicco di grano dobbiamo farlo germogliare perché è venuto fuori questo desiderio così parlando un po' tra amici anche di altre realtà per quanto riguarda le certose non solo questa di Padula la nostra di San Lorenzo diciamo è quella di calci è un paese vicino Pisa a 7 km da Pisa ma anche con altri amici di altre certose Pavia dove insomma siamo così un po' confrontati è venuto fuori questo desiderio appunto di dare più lustre a questa certose abbiamo creato un comitato ufficialmente riconosciuto in Toscana e abbiamo cercato e puntato su questo gemellaggio per fortuna dopo tutte le vie burocratiche oggi siamo felici di essere qui come consiglio diciamo dell'associazione degli amici del Vallo di Diani in Toscana abbiamo, questo lo devo ammettere ha trovato molta disponibilità anche nell'amministrazione di calci in effetti il sindaco è qui con noi oggi presente e con la direttrice del Polo Museale con la direttrice della Certosa una pienissima disponibilità a creare questo evento un ascensore per consentire ad anziani e disabili di recarsi in visita al cimitero il progetto è stato approvato dal Comune di Sanza un importante progetto realizzato dall'ufficio tecnico comunale su indicazione dell'amministrazione comunale di Sanza guidata dal sindaco Vittorio Esposito l'aggiunta comunale infatti ha approvato e finanziato con fonti del Comune la realizzazione di un ascensore adiacente alla scala d'accesso del primo piano del cimitero comunale l'investimento, previsto ed approvato è di 64.606 euro l'impianto è necessario per consentire l'accesso al piano superiore del cimitero soprattutto per i disabili l'amministrazione comunale ha raccolto anche le richieste di alcuni nostri concittadini che avevano manifestato questa esigenza affermato il sindaco Vittorio Esposito si è lavorato sulla doppia ipotesi una via d'accesso esterna al piano superiore oppure un ascensore dunque si è dovuto analizzare nel dettaglio il posizionamento del meccanismo di sollevamento e le necessarie condizioni di sicurezza realizziamo ciò che era necessario fare nelle prossime settimane daremo corso ai lavori e nel breve periodo l'ascensore sarà installato ha concluso il sindaco Esposito una risposta concreta dunque al superamento degli ostacoli di mobilità soprattutto per gli anziani e per le persone con disabilità ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio andiamo a Monte San Giacomo dove ieri tutta la comunità era in festa per i cento anni di Angelo Caporrino il nonnino sereno dal temperamento forte è stato festeggiato da famiglie, amici e istituzioni cento anni che traguardo a raggiungerlo Angelo Caporrino nato il 10 gennaio del 1920 a Monte San Giacomo il suo centesimo compleanno ieri è stata una grande festa di comunità è un nonnino sereno sposato da 71 anni con Michelina Trotta con cui condivide tutto e anche ieri insieme hanno condiviso affetto e sorprese hanno cinque figli Vincenzo, Giovanni, Arcangela, Pasquale e Claudia arricchiti con la generazione di 11 nipoti e 5 bisnipoti nonno Angelo ha un temperamento forte come quello di chi ha condotto una vita semplice ma intensa nell'impegno per la famiglia, nel sacrificio per il lavoro prima dai migranti in Germania e poi nei campi al suo paese nella dedizione alla patria che ha contribuito a difendere durante la seconda guerra mondiale signore che ma vai non è fin ma ci siamo sotto controllo ma pure il mondo pure il mondo ma ne rado tutti ma ne rado e domandano a questa questa domandano io c'è quello di un'impegno c'è quello di un'impegno perché questa è la santa è un'impegno a tutti quanti io non mi ricordo io voglio che questa festa è un'impegno e grazie mille è un'impegno è un'impegno mi piace mi piace ma non lo sa che fai perché mi è un'impegno grazie 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 esistenza e testimonianza di cambiamenti sociali, culturali, economici e politici che hanno segnato la vita collettiva e si porta dietro un bagaglio di storia e saggezza che sono oggi il faro per tutta la sua numerosa famiglia. Alcuni dei figli sono stati costretti a trasferirsi in altre parti d'Italia all'estero per lavoro, nonostante la distanza nessuno ha voluto mancare all'appuntamento dei suoi cento anni. È un papà speciale, un papà bravissimo, lui ha sofferto sempre e quindi oggi siamo così felici di festeggiare questa giornata con lui perché l'ha presa al cuore, l'aspettava questa data, quindi noi siamo felicissimi di questa giornata che lui trascorre così serenamente. È una giornata bellissima, lui voleva arrivare su traguardo, è arrivato e grazie a Dio veramente è contento, è una giornata che è contenta. Papà è semplice, lavoratore, retta e corretta, ci ha dato, ha educato a noi e ringrazio a Dio che ce l'ha mandato, veramente. Emozionante, troppo bella e ci facciamo tanti auguri al nostro papà Angelo. È stata proprio una gioia, un'emozione unica, irripetibile secondo me. Auguro un mondo di bene a nonno e speriamo di arrivarci anche noi. Siamo felicissimi di condividere questa cosa bella con mio padre, con tutta la famiglia, la comunità, il sindaco, voi e un grazie a tutti. È stato protagonista di una grande festa ieri, iniziata con la funzione religiosa presso la chiesa madre San Giacomo Postolo, celebrata da Don Agnello Forte. Poi il pranzo presso il ristorante Rezzo, dove è stato festeggiato e coccolato tra le cornie e i fuochi d'artificio e la buona musica della Pinopinto Band. C'erano tutti, le sorelle Antonietta e Colomba, i fratelli Pasquale e Carmine, con le rispettive famiglie. Gli amici di sempre, il medico di famiglia Franz Nicodemo, il parroco, il sindaco Raffaele Accetta, la vice sindaca Angela D'Alto, l'assessore Antonio Caporrino, il presidente del parco Tommaso Pellegrino. L'invidiabile traguardo raggiunto, infatti, meritava un momento istituzionale. Il primo cittadino Accetta e il presidente Pellegrino hanno omaggiato nonno Angelo con due targhe ricordo. Un momento di grande soddisfazione, di grande anche commozione, se vogliamo vedere un centenario che arriva a quest'età, diciamo, in, si può dire, quasi perfetta forma, insomma, consapevole e cosciente di tutto quello che succede con la sua famiglia, con i fratelli, la sorella, i figli, i nipoti e tutta la comunità. Domani, domenica 12 gennaio, presso la sede della società operaia Torquato Tasso a Sala Consilina, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso Presepe Insieme, dedicato alla memoria del maestro dell'arte presepiale Franco Ricciardi. Il concorso, alla sua seconda edizione, è stato fortemente voluto dalla parrocchia di San Marco di Teggiano, a clicamminare insieme dalla società operaia Torquato Tasso di Sala Consilina, al fine di valorizzare proprio la tradizione del Presepe. Quest'anno il concorso si è arricchito di due nuove sezioni che affiancano quella riguardante le famiglie, ossia una dedicata ai gruppi, quali parrocchie e associazioni, e l'altra dedicata alle scuole di Teggiano e Sala Consilina, dove Franco Abile Artigiano era solito allestire diverse natività. La cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 17.30 presso la sede storica del Sodalizio Salese. Andiamo avanti. Termina domani la mostra Incontri a Palazzo Piccini, nel centro storico di Sassano. Sarà deciso il vincitore del concorso indetto per l'occasione e presentato il catalogo relativo alle opere esposte e agli artisti. Domani alle ore 18 si conoscerà l'opera che sarà acquistata dal PAC, il Palazzo delle Arti Contemporanee di Sassano, che dal 20 dicembre ha ospitato la mostra Incontri. Buonissima l'idea dell'associazione Factotum, preseduta da Antonella Inglese, di portare l'arte nel centro storico della cittadina. Incontri è stata pensata come un momento alternativo all'intrattenimento tipico del periodo natalizio ed è stato un successo. Sono state sette le mostre personali degli artisti Salvatore Ceglia, Pasquale Corvino, Gaetana Forte, Serena Lobosco, Ugo Martino, Marisa Toscano e Oriana Vertucci. Per l'occasione è stato organizzato anche un concorso. Ogni artista ha scelto una sua opera tra quelle esposte, una giuria popolare. Domani ne sceglierà una tra le sette che si trovano nell'aula Aldo Moro. Chi risulterà vincitore riceverà un premio in denaro di 500 euro con il contributo della presidenza del Consiglio Comunale di Sassano, preseduto da Antonio Capuano, con cui viene acquistata l'opera che resterà per sempre in esposizione permanente a Palazzo Picinni. L'iniziativa, che nelle intenzioni degli organizzatori è la prima di una lunga serie, si inserisce all'interno di un ambizioso progetto che punta a fare di Palazzo Picinni un luogo, spiega Antonella Inglese, dove chiunque abbia talento possa esprimersi, aperto non solo ad artisti ma anche a musicisti, scrittori, attori, un luogo di incontri e aggregazione culturale che nel territorio manca, ma che è necessario per non dissipare energie creative. La mostra incontri ha regalato molte soddisfazioni, il bilancio è più che positivo in termini di critica e presenze. In tanti in questi giorni hanno visitato Palazzo Picinni, quindi il centro storico di Sassano. Domani sarà anche presentato al pubblico il catalogo di incontri, mostre d'arte contemporanea che raccoglie tutte le opere degli artisti, le biografie e i progetti espositivi di ognuno. Un'unica gestione dei due siti storico-artistici di Elea Velia e Pestum, approvato quanto disposto dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini. Pestum e Velia diventano un unico brand. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vistato dalla Corte dei Conti e che sarà pubblicato in gazzetto ufficiale lunedì prossimo, è stata infatti sancita l'autonomia amministrativa e la gestione unitaria ed integrata del parco archeologico di Pestum e di quello di Elea Velia. Accolta così dopo tre anni la proposta, formulata dal Consiglio Comunale di Ascea, che mirava tra l'altro a velocizzare i processi decisionali, ottimizzare le risorse dei due siti UNESCO ed estendere le attività di promozione e valorizzazione dei due parchi archeologici ad un contesto più ampio. Sono molto contento che la nostra proposta sia stata ritenuta valida, afferma il Sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo, e una svolta storica nell'organizzazione e gestione del parco archeologico di Elea Velia. Sono convinto che la nuova formula gestionale favorirà il rifiorire del nostro sito e la crescita culturale, economica ed occupazionale del nostro territorio. Ringrazio Alfonso Andrea per il grande lavoro svolto e il ministro Dario Franceschini per la sensibilità dimostrata e per la decisione storica. E ora passiamo al calcio con il cartellone dei match in programma per prima, seconda e terza categoria. Vediamo i dettagli nel servizio. Tutti in campo nel weekend, match fondamentale in prima categoria, dove il sassano calcio ospiterà il Real Agropoli, per proseguire la marcia di avvicinamento al primo posto della classifica, occupato dal Poseidon che dista solamente un punto. Giallo-blu in pieno stato di grazia, forti di un filotto di vittorie, che li vede tra i favoriti alla vittoria finale del torneo. Ultima vittima dei sassanesi il Golfo di Policastro, piegato sul proprio campo per 2-1 la settimana scorsa. Ora si attende il salto di qualità definitivo, per mettere ulteriore pressione alla capolista. Anche il Certosa di Padule in seconda categoria cercherà un sussulto d'orgoglio per regalare una gioia ai propri tifosi. Obiettivo tre punti contro l'ospite Laurino, per allontanare ulteriormente l'ultimo posto della classifica, occupato dall'Olevanese, a meno sette punti dai valdianesi. In terza categoria è chiamato all'immediato riscatto la Pollese, reduce dal passo falso dello scorso weekend sul campo dell'Oliveto Citra, peraltro prima sconfitta stagionale. Nessun allarmismo per i Granata, sempre prima in classifica, ma chiamate a realzarsi subito per evitare il sorpasso del Caggiano Calcio, distante solo un punto. Pollese in casa contro l'Altavilla Silentina, Caggianesi tra le Muramiche contro il Bello Sguardo. Con lo sport termina il nostro telegiornale. Vi ringrazio di essere stati con noi anche questa sera. Buona serata.